Un ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto accessorio, per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi, per la scelta che ha fatto questo Governo, gli invisibili saranno meno invisibili, quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Io su questo voglio ringraziare il Presidente, voglio ringraziare la Ministra Lamorgese che è stata una compagna di viaggio molto tenace insieme a me e agli altri per portare in porto questa scelta e da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato perché lo Stato è più forte della criminalità, lo Stato è più forte del caporale. la scelta dell'amore. la scelta è più forte della scelta, la scelta, la scelta, la scelta, la scelta e la scelta. Grazie per la visione 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 1- per la condizione del bambino 2- per la condizione del bambino 3- per la condizione del bambino L'indicazione della condizione del bambino In cui la condizione del bambino è sempre ilhe del freddo La condizione che aveva davanti al bambino Per cui uno che lavorava con la condizione E' non sembra più un amico In questa condizione E' non sembra più di un abitore e che tutti fanno partiremmo l'imballo e faranno partiremmo e non diventaremmo in visibilità per usciremmo per usciremmo escello che ti contribuisce a questa domanda e l'anno che veniva e che mi senti che il risultato per essere attraverso quello che ti fa e ho oscoltato e il momento inizialo che scasszi attivano la partecipazione dell'amore era la partecipazione del progetto dell'antica e bisogna riusci�arsi perché non aveva la presenza del consorcio che ci sono stati amore e nascita e se non c'è il risultato della chiesa del democrazio che è sempre il risultato con il risultato del risultato del risultato. e anche per il nostro amico, cosa potrebbe mettere alla tavola di lui? Cosa cosa può fare? Cosa cosa può fare? Cosa cosa può fare? Per esempio, quando il mondo è tutto molto diverso. Una altra cosa è che la parisa di Bielanova è una ragione di un sottotitolo di Mugheri, una ragione di un amico di Mugheri, Sì Abidallah المعتصم مترجim Allah يطول في عمره وأم لشاب نصف مغربي ونصف إيطالي هذه المكونات كلها جعلت من هذه السيدة قوة غير عادية وأنتم تشوفوا القوة مليئة بالكفاءة ومليئة بالإنسانية وعطاعت في التالي انتصرت للدولة انتصرت لمؤسسات الدولة انتصرت للقانون وانتصرت للإنسانية وللكرامة الإنسانية كنت معكم صباح النعيم إلا عجبكم الفيديو تشاركوا في القناة وفعلوا الجرس بشيوصلكم كل جديد مع السلامة